8. Rimedi naturali per le allergie stagionali. Poiché ci sono determinati alimenti che possono peggiorare lo stato delle allergie, è fondamentale saperli identificare ed eliminarli dalla propria dieta. Le allergie stagionali sono un disturbo molto comune e anche molto fastidioso. Lo sanno bene le persone che ne soffrono. Se anche per voi il cambiamento di stagione è sinonimo di starnuti, congestione nasale e occhi rossi ed irritati, continuate a leggere l'articolo. Troverete degli utili consigli su come combattere le allergie stagionali in modo naturale. Vedrete che miglioramenti. Rimedi naturali contro le allergie stagionali La reazione allergica si produce quando il sistema immunitario reagisce alla presenza di sostanze considerate pericolose per l'organismo. Si tratta di un meccanismo di difesa che ha come effetto una reazione infiammatoria i cui sintomi principali sono naso che colla o congestione nasale, occhi che lacrimano, starnuti, tosse, prurito al palato e alla gola, gonfiore ecc. Se è il vostro caso, prendete nota di questi rimedi naturali che vi aiuteranno a combattere le allergie stagionali. Sono semplici ma molto efficaci. 1. Spezie piccanti per evitare le allergie Se soffrite di allergie stagionali, forse la soluzione si trova proprio nella vostra dispensa. Sarà sufficiente provare a condire i vostri piatti con spezie piccanti per notare lievi miglioramenti dei sintomi. Anche se potreste non crederci, le spezie possono aiutarvi a liberare le vie respiratorie. Ecco alcune opzioni, peperoncino di cayenne, zenzero, senape e anche l'aglio e la cipolla potrebbero rivelarsi utili. Provate. 2. Aceto di mele L'aceto di mele può aiutarvi ad alleviare i disturbi tipici che causano allergia, e questo grazie alla capacità di ridurre la secrezione di muco. Cosa fare? Versate un cucchiaino di aceto di mele in un bicchiere d'acqua e bevete tre volte al giorno. Potreste anche mischiare un cucchiaio di aceto di mele con un cucchiaio di succo di limone spremuto e mezzo cucchiaino di miele. Bevetelo per tre giorni e noterete la differenza. 3. Ortica L'ortica possiede proprietà antistaminiche, pertanto può risultare molto efficace per combattere le allergie stagionali. Preparate una tisana a base di foglie di ortica e bevetela durante la giornata. Noterete la differenza e vedrete che era proprio ciò di cui avevate bisogno. 4. Miele Anche se potrebbe sembrarvi strano, assumere miele prodotto nella vostra zona potrebbe aiutare il vostro organismo ad adattarsi agli allergeni dell'ambiente. Non dovete fare altro che prenderne un cucchiaio un paio di volte al giorno. Cominciate con questa pratica un mese prima che inizi la stagione dell'allergia e noterete che il vostro corpo si abituerà. 5. Agrumi Gli agrumi sono ricchi di vitamina C e questo è ciò di cui ha bisogno il vostro corpo per combattere le possibili allergie. Oltre ad essere un ottimo antiossidante, la vitamina C funziona come antistaminico naturale. Oltre che negli agrumi, questa vitamina è contenuta nei seguenti alimenti, broccoli e crociferi in generale peperoni dolci fragole kiwi ananassei. Curcuma La curcuma è un altro dei prodotti che non possono mai mancare per alleviare i sintomi dell'allergia. La curcumina, sostanza presente nella curcuma, agisce come decongestionante naturale. Per usufruire di tutti i suoi benefici, non dovete fare altro che aggiungere questa spezia ai vostri piatti. 7. Oli essenziali Gli oli essenziali di lavanda, eucalipto, rosa o menta possono aiutarvi a liberare le vie respiratorie. Cosa fare? Potete utilizzate l'olio di menta o di lavanda ed aggiungere da una a tre gocce in un cucchiaio di olio di oliva o di mandorle. Applicatelo sulle tempie e sulla pianta dei piedi. Se preferite quello di rosa o di eucalipto, mettetene qualche goccia su un panno di cotone e respiratene l'aroma. 8. Modificate la vostra dieta Forse l'allergia stagionale della quale soffrite è causata ad un'intolleranza a certi alimenti. Per questo motivo, è importante smettere di assumere qualsiasi ingrediente che causi sintomi come eruzioni o mal di stomaco, anche se il dolore non è troppo intenso. Ecco alcuni alimenti che peggiorano lo stato dell'allergia a latticini, grano, uova, zucchero, patate e verdure ricche di amido, cibi fritti o precotti. Verificate quali di questi vi fanno male ed evitatelli. Alimenti da evitare. Nel caso si tratti di allergia al polline, dovete sapere che ci sono determinate alimenti che peggiorano i sintomi. Evitate il consumo di melone, banana, cetriolo, semi di girasole e camomilla.